Lavoro in quest'ambito dal 2008 e ho seguito lo sviluppo di tutto il successo di questa operazione. Rimane un ultimo tassello che è il tassello di Unipol. Questo tassello è un tassello a Imer piuttosto piccolo perché tutti gli altri spazi oramai sono stati chiusi dagli altri cantieri. Costruiamo un po' l'americana, il nostro compito è proprio di seguire la qualità, di vedere che la qualità dell'eseguito corrisponda alla qualità del progetto. Una piccola soddisfazione mia partecipare a questo progetto perché è un bellissimo progetto che sarà a opera finita uno dei più belli edifici di Milano, più iconici. Grazie 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 Grazie